La Toscana può crescere, può competere con le grandi regioni d'Europa, solo se tiene insieme la bellezza delle sue città d'arte, insieme alla qualità e alle esperienze che nascono nei nostri piccoli bordi. L'Adventure Outdoor Fest è in programma dal 15 al 19 settembre in Toscana a San Marcello Piteglio, a Pistoia. Dopo sette edizioni nel cuore delle Dolomiti, la manifestazione, patrocinata dalla regione toscana e dalla provincia di Pistoia, si terrà grazie al contributo della Fondazione Caripite e del Comune Ospitante per la prima volta sulla montagna pistoiese. Un'ottava edizione che prevede appuntamenti diffusi nel territorio, dando la possibilità ai partecipanti di scoprire dei luoghi unici immersi in un paesaggio naturale, bello, vario e ricco. Lavoreremo assieme al Montanaro Trail, che è appunto questa gara di trail running che ci sarà in una delle giornate, ma dal mercoledì alla domenica le attività saranno veramente tante. Ci saranno cose di arrampicata, ci sarà sicuramente tanto trekking e quindi anche si parlerà di sentieri, di cammini. Assieme al CAI di Maresca si organizza un convegno nazionale dedicato proprio alle norme di Maresca, che sono appunto 71 anni fa, hanno dato il via a quello che è la segnalazione dei nostri sentieri in Italia. Quindi tante cose belle che si stanno muovendo. La montagna sta rispondendo in maniera positiva e sicuramente è pronta ad ospitare un evento come il nostro.